Siamo a Cavriana con il sindaco Giorgio Cauzzi, sindaco ne ho eletto per ormai qualche mese e in questa meravigliosa serata di Calici di Stelle a Villa Mirra. È una organizzazione nuova, completamente riaperta a Villa Mirra, bellissima atmosfera. Che programmi avete stasera, ma che programmi avete per questa nuova amministrazione? Beh, questa sera il programma è quello tradizionale legato ai vini e ai sapori mantovani, diciamo così, perché avremo le degustazioni dei nostri vini, delle cantine locali e le degustazioni anche dei piatti tipici perché non dobbiamo dimenticare che ci sono anche quelli. Programmi per il futuro tantissimi, adesso in questi mesi abbiamo lavorato moltissimo perché avevamo alcune cose retrate da fare, come dice lei sono pochi mesi ma mi sembrano già dagli anni e quindi adesso nei prossimi giorni noi con gli assessori consiglieri da un po' che ci diciamo finito Calici di Stelle, cominciamo a lavorare più dettagliatamente sulle cose piccole ma comunque importantissime dal nostro territorio. Quindi la scuola, quello che è i problemi del commercio, dei cittadini in generale. Ecco questo. Il vostro giornale che io leggo tantissimo perché lo vedo spesso e mi fa piacere perché parla dalle nostre zone del territorio, quindi sarò ben lieto di avere occasione di avervi ancora magari mio ospite in qualche altra occasione. Benissimo, grazie. Grazie a tutti i giorni. Grazie a tutti i giorni. Ci sono gabbareASego. Ci sono solo un can France quieta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.